Forza Gundalf dobbiamo andare, ormai è già l'alba. Il sole sta sorgendo e la luna se ne sta andando. Elsie ci sta aspettando al porto per portarci a superare l'incredibile sfida. Io ti porto con me Gundalf, io Gundalf ho bisogno di te e devo ottenere quel libro a tutti i costi. Il libro di Re, il fantomatico, il libro di Re. Gundalf, forza, cammina, vai avanti, corri velocissimo. Siamo ormai arrivati al porto. L'alba, è l'alba, ecco l'Ali Elsie. Non c'è più nessuno ormai, saranno tutti a dormire. Infatti è prestissimo, saranno alle 4 di mattina, ma perché? Devo venire qua alle 4 di mattina Elsie, mannaggia te, non è possibile. Ma è una barca piccolissima Elsie. Cioè, io devo portare il mio cavallo. Cioè, come facci sta barca, portare il cavallo, scusa? Il tuo cavallo non ti servirà dove andrai. Mi prendi in giro. Mi stai prendendo in giro, scusa. Gundalf, io vengo a portarti con me, ve lo imposo a quanto pare. Vabbè, Elsie, ho bisogno di Gundalf. Ma sei serio che non posso portarlo? Ho bisogno di lui io. Mi sono anche attrazzato per bene, ho tutelare l'attrazzatura, sono fortissimo, sono prontissimo a combattere, però senza Gundalf come faccio? Gundalf, vai, vabbè. Gundalf, mi dispiace, devo lasciarti qua quanto pare. Ancora una volta tu dovrai aspettarmi qua. Mi dispiace, amico mio. Sappi che ti voglio bene. Questa è la tua barca, sì, la mia barca però è un po' piccola, ce la fa un po' schifo, mi aspettavo qualcosa di meglio, sinceramente. Dovrai andare a sud, oltre i confini del mare, e troverai l'antico castello di re. Lì si terrà la tua sfida. Ci saranno i guardiani che cercheranno di fermarti. Non devi combatterli tutti, non è necessario. Il tuo scopo è quello di arrivare al cospetto dell'antico custode. Sarà lui a decidere se sei degno o no di ottenere il libro di re. Stai attento, è evitato rompere o piazzare blocchi, buona fortuna. Ok, sono pronto, quindi devo andare a sud, sud di là. Elsie, quindi non posso piazzare blocchi, non posso rompere blocchi, devo stare attento, devo andare dall'antico custode. Grazie mille Elsie. Vado, forza, Gundalf. Augurami buona fortuna, intanto che si manca o mi porto, pensavo mi portasse lei, invece no, devo andarci da solo, un singola volta. Il sole sta sorgendo sul mio regno. Un altro giorno, il quindicesimo giorno è arrivato, e noi andremo a combattere. Ma che sì, noi siamo re, ma siamo anche dei guerrieri. Anzi, prima di partire mi metto già subito tutta l'armatura che mi sono preparato, ma tutto pronto. Allora, lo zaino lo tolgo, anche la corona. Dove andrò non mi servirà, perché devo essere prontissimo a combattere. Tutto questo dovrebbe essere sufficiente, direi, di partire. Forza, andiamo. Eccolo qui il sole, è arrivato. E mentre il sole arriva, noi ce ne andiamo. Comunque che bella questa parte del mio regno, della mia isola, non l'avevo mai esplorata, perché la mia isola continua, questo invece è solamente un golfo. Ho fatto il mio porto proprio in un golfo. Non è possibile, mannaggia. È davvero bellissimo, devo esplorarlo per bene. Ma noi non dobbiamo esplorare la mia isola adesso. Devo andare a sud, oltre i confini del mare. Ma dove cavolo sono i confini del mare? Dove cavolo devo andare? Manco io lo so, manco, secondo me manco è, se lo si metto. Vai, vai, prova, cerca, se lo trovi va bene, se lo trovi ti arrangi. Ma che cavolo è questa cosa? Perché è così strano il mondo? Sembra che sia tipo tagliato in due. Ma che cavolo è quella cosa lì? Ma? Ma è gigantesco! È mezzo al mare poi! E quindi è questo l'antico castello di re? Ma è enorme! Ma quanto cavolo? Ma che cavolo? No, aspettate, aspettate un attimo, devo guardarlo per bene da... Ma è gigantesco! Non vedo manco la cima, da quanto è grande sto posto! E arriva fino alle profondità del mare, ma è gigantesco! Quindi è questo il luogo della mia sfida? L'antico castello di re? Di dove cavolo... Ma, ma no, ma è bellissimo! Ci sono delle persone! Guardiano! Oh, ci sono i guardiani! Ok, ma sono buoni o cattivi? Ciao, non è... Ma sei cattivo? Ah, è cattivissimo questo! Pensavo fossero buoni, invece no! Infatti me l'hanno detto, me l'ha detto Elsie, Che cercano di fermarmi! Devo combattere io per forza, ma andate questo! Mannaggia, voi stupidi guardiani! Comunque siete davvero bellissimi, davvero! Avete proprio dei lineamenti, siete proprio delle statue! Delle brutte statue! Ma è davvero enorme sto posto! Io come cavolo capisco dove devo andare, scusate! Forse devo andare alla stanza più alta del castello, ma non penso! Non lo so, allora appodiamo la mia barca qua, dobbiamo... Per bene, ecco, perfetto! Salve amici! Buongiorno! Posso entrare qua? Posso lutarne la cesta? Non c'è nulla, mannaggia! Me l'ho aspettato che non ci fosse nulla, chissà perché! Amici! Ciao! No, ma quanti siete? Ma siete tantissimi! Fate malissima anche! Cioè non fate troppo danno, però siete troppi! Allora, per i miei gusti... Ma qua anche dentro le case ci sono! Vattene via! Adesso mangia la torta, mangia tutta la torta, così prendo un po' di vita! Mi sono portato anche il mio bellissimo arco! Ma quanti cavolo siete? Perché tutti con tutti me siete? Ma mannaggia voi! Allora, dove devo andare? Io non capisco dove devo andare! Poi prima di andare tipo, non lo so, di qua ci sono... Allora... Io mi... Io so! Se voi giocate tanti videogiochi, sapete? Dove ci sono tantissimi nemici? Vuol dire che c'è tantissima cosa, tipo loot o cose importanti! Perché i nemici devono guardare il loot! E questa è una porta, una doppia porta! Le doppie porte... Le doppie porte sono il simbolo delle cose importanti, vero? Ed entro c'è anche un guardiano! Quindi entro! Eh, buongiorno! Ma quanta gente c'è? Anche due qua si entano... Chiudiamo le porte, così gli altri non entrono, che stanno nuotando nel mare! Quanto fai male! Quanto fai male! Sono fortissimi questi guardiani! Non sono ancora pronti da combatterne! Non voglio neanche rompere tutta la mia armatura! Quindi saliamo le scale! Ma... La smettete di apparire? Da ogni... Da ogni dove appaiono? Da ogni dove? Allora, facciamo così! Apro la porta! Vieni qua, forza amico! Ciao amico! Come stai? Ehi! Guarda, anche... Anche... Ehi! Allora... Con calma un attimo mangiamo, recuperiamo vita! Tanto questi non ci vedono! Ok! Forse ho trovato la torre giusta! Devo andare di qua! Oh, perfetto! Quindi alla... Questo saliva... Ok, no, aspetta... Questo scendeva e questo saliva! Saliamo in cima! Forza! Ho trovato la via più veloce per andare! La voglio esplorare per bene tutto questo posto! Quindi non devo farmi... Non devo perdermi manco una piccola zona! Qua c'è una porta in ferro! Io non posso spaccare i blocchi! Perché se spacchi i blocchi non so cosa poter... Cosa succede se spacchi i blocchi? Perdo la sfida, mi cacciano via, muoio istantaneamente! Quindi non voglio rischiare! Facciamo con calma, saliamo un attimino passo per passo e vediamo cosa c'è! Ok, qua c'è qualcosa... Qua c'è della gente! Ciao, guardiano! Tutti uguali siete, tutti uguali! No, un po' di creatività non ce l'avevate, no? Quando vi siete stati creati... Un po' di creatività non esisteva, no? Tutti uguali vi fanno! Eh, si mi ha detto esplicitamente... Non devi combattere tutti per forza! Quindi io posso anche scappare, giusto? E qua se salgo, io posso salire e arrivo in cima! È chiuso! Mi prendete in giro, scusate! È l'ultima stanza del castello e non posso salire! Non posso andare avanti! E c'è un godello che mi aspetta qua! Ma se che questa non è la strada giusta, a quanto pare... Allora, io dove sono esattamente? Sono quasi in cima! Cioè, sembrerebbe che sia quasi in cima! Però a quanto pare non sono in cima! Forza, scendi loco! Ok, non ho capito nulla di quanto è enorme il suo castello! Allora, direi di fare un po' di parkour in giro sui tetti e vedere dove caro devo andare! Vabbè, perché va bene, non posso rompere e apprezzare blocchi! Però a parkour posso farlo! Io ero là in cima, praticamente! Ma a quanto pare non va abbastanza bene quello che ho fatto! Quindi facciamo così! Avevo visto che c'era un'altra parte del porto! Qua c'è una parte e qua c'è l'altra! Vediamo se io posso accedere a qualcosa lì! Che lì ci sono tantissimi guardiani, sembra tipo delle abitazioni, delle case! E quello è il punto più alto! Però lì ci sono delle scale! Da lì non posso arrivarci! Vedo dove cavolo devo passare esattamente, scusate! Io non lo sto capendo, lasciatemi stare voi! Allora, ho un piano! Il piano è correre e scappare il più velocemente possibile! Aiuto, mi ha buttato in acqua! Risali su, risali, forza, scappa, scappa, aiuto! Ok, qua ci sono delle scale! Quindi scale vuol dire che posso salire! E vattene via, ma no, allora, calma! Mi sono caduto fuori! E vedi, ti butti anche lì fuori te! Dovete smetterla, lasciami andare! Devo tornare dall'altra parte, non è possibile! Sembrerebbe che io qua possa salire in qualche modo! Qua, no, allora, facciamo che questi, quelli nelle case, li lascio al loro posto e non li tocco neanche per scherzo! Quindi, devo salire le scale e stare molto attento! Io ho l'arco, ma non l'ho anche ruotato l'arco! Quindi, prende questo! Quante frecce servono? Non ho tante frecce, no, no, poche! Ok, tre frecce e basta, teoricamente! Allora, allora! Dovete calmarvi un attimo voi! Dovete darvi una calmata! Quanti siete? Sono i quattro! Mi han circondato! Allora, facciamo così! Vado qua! E mi ha buttato giù di nuovo! Ehi, geniale! Cadete in acqua, amici! Forza, vedete qua in acqua! Tutti in acqua, vi voglio! Tutti in acqua! Quanto siete stupidi! Finalmente mi sono liberato un po' il passaggio! Poiché non ce ne siano molti altri, anche se ne ho visti tantissimi! Allora, dove vado? Vado dentro all'interno oppure salgo di qua? Teoricamente queste scale mi portano là in cima! Perfetto! Però voglio vedere un po' l'interno come è fatto, come è strutturato questo posto! Allora, quanta scelte c'è? Il mio peso non funziona per nulla! Allora, saliamo di qua! Saliamo su queste scale! Non posso pensare blocchi, quindi non posso neanche bloccarli! Mi han circondato completamente! Mi han completamente circondato! È la mia fine! Sarà la prima volta che io muoio! Allora, facciamo così! No, facciamo niente! Non facciamo nulla! Questi stanno facendo il bagno! Stanno facendo il bagno questi perché mi prendono in giro! Pensano che... Ma si sono tipati, scusate! Stanno acchierando questi! Forza! Cadete tutti! Come ho fatto a prendermi? Come ho fatto a prendermi? Vabbè, sono caduti! Meglio per me! Allora, se voi vi chiedete come io sia arrivato qua! Non lo so manco! Io ho fatto parkour e sto... Sto citando tutto! Tutto sto citando! Mamma mia, quanto sono... Sono un citer pazzesco io! E voi? Prendete queste frecce! E le mie frecce potentissime! Ma quante gente c'è sul ponte? Beh, è pieno! Ma non è possibile! Ovunque sono queste cose! Vabbè che è una sfida incredibile per decretare chi è il re più forte! Cioè, chi è il re degno! Perché in tantissime hanno fallito! Però, cioè, io non voglio fallire! Non posso fallire questa sfida! Cioè, se fallisco sono proprio scarso! Adesso ne mancano davvero pochi che sembrerebbe! A meno su queste scale! Poi non so quanti altri ce ne siano in giro per questo castello! Che è praticamente enorme! Allora, quindi, ricapitolando! Devo capire in che punto io devo passare! Quindi salgo lì e non so dove arrivo! Allora, devo salire in quelle torri e poi andare da qualche parte! Però, dove? Non lo so! Quindi, non chiedetelo a me! Chiedetelo a questi qua! Ma non posso dimmi... Ah, guardiano, io voglio parlare! Parliamo un po'! Che non voglio combattere! Io non voglio combattere! Parliamo! Dove devo andare? In che punto preciso devo andare io? Cioè, dimmi dove devo andare! Aiuto! Calmati! Dove vado? Vabbè, non voglio dirmelo! Ho un cuore! Ho un cuore! Scrappa loco! Scrappa! Arco! Alla mano! Prendi questo! Vattene via! E muori! Devo prendere un po' di vita! Sto vedendo tutto il cibo, sto finendo! Sfruttiamo queste frecce! Sfruttiamo la dovere! Forza! E sparisci dalla mia vista! Tu faccia di pietra! Sei proprio una faccia di pietra sei! Eccola qua! Una porta doppia! Vi ricordo, porte doppie vuol dire cose importanti! E tu dove sei arrivato? Tu non c'eri prima! Mi hai preso alle spalle e mi hai preso! Come ti permette a prendermi le spalle? Quindi, se lo salgo qua, vado in cima a questa torre teoricamente! Io non devo arrivare qui! Devo salire qua! Buongiorno! Chiediamo le porte, mi raccomando! E qua c'è... C'è un iuto viso! Ti picchio da sotto! Ah, non puoi arrivare! Non puoi competere contro di me! Allora, amico! Cosa deve? Ok, un'altra porta doppia! Quindi due porte doppie sono molto interessanti! Quindi... Oh, mamma mia! Mamma mia, davvero! Facciamo un attimo! Recupero vita, poi ripartiamo! Perfetto! Sono trovato al massimo delle mie forze! Ma questi continuano... Cadi giù! Cadi giù! Cadi giù! Ah! Ciao, amico! Fatti un bel bagnetto, eh! Fatti un bel bagnetto! Ci vediamo dopo! Ok, questa... Questa torre centrale! Ok, forse sono quasi arrivato! Forse... Penso di essere arrivato! Se questa è la torre centrale... Allora io sono ormai arrivato! Eccolo l'entrata! Sono fatta! Sono entrato! Eh, ma... Eh, ma... Spero di non dover mai andare qui sotto! Perché se io devo andare qui sotto... Sono finito! Ma io devo salire! Quindi lì sotto non devo mai andarci in vita mia! C'è il tizio! Tu chi sei? Eh... Sei tu l'antico custode? Devi salire in cima alla torre! Ma qua... Da dove? Questa è in cima, no! Quando devo salire ancora? Al momento lui lo si trova qui! Che è lui! L'antico custode! Lui dove? Non si trova qui! Devo salire in cima! Ma da dove salgo? Cioè, non c'è... Non c'è modo di salire! Forse di qua posso trovare una via! No, qua si scende e basta! Ma da dove cavolo devo passare? Io scusate! Aspetta, mi ricordo! Mi ricordo un passaggio! Ok, aspetta! Devo... Ok, devo andare di qua! Qua c'è una porta! Mi ricordo qui che qui c'è una porta! Da dove sei spuntato? Ti avevo buttato di sotto! Io ho sbaglio! Ok, forse... Ok, ho capito ragazzi! Io vado qui! Poi salgo in cima e poi vado là! Penso che sia giusto! Beh, penso almeno! Non ne sono sicuro! Quindi facciamo così! Andiamo qui, uccidiamo sto coso e prendi questo! Mannaggia a te! E ok! Ma che cavolo? Ma è chiusa! Una stanza è chiusa! Ma non de... Ma mi perdono in giro qua! Lo sto... Ah! Devo sedere qua! Ma ditemelo subito! No! Ci voleva tanto dirmi che dovevo sedere qua! Ok, c'è una porta! Andiamo di qua! Quindi qui non c'è nessuno! Perfetto! Mangiamo con calma! Che non voglio beccarmi altrimenti! Ormai non faccio da quelle cose! Quante porte ci sono! Ok, c'è doppia cesta! Niente di chi! Tagliamo le scale con molta calma! Ok! Ma che cavolo è quella cosa lì? Ma che cavolo è sta cosa? Enorme! Amico! Come stai? È gigantesco! Ma qua quanto fai male? Ma non posso manco ruppirlo praticamente! Ma no! Ma tanto vedi... No 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 no! No! È fortissimo sto coso! È tipo... E lui è l'anticuradiano! Non penso se a lui è una creatura enorme! Ok, qua posso salire! Ma te tu devi sparire dalla mia vista! Allora, io ho solamente 40 frecce! Dove è andato? È morto? L'ho ucciso? Ah, l'ho ucciso! E l'ho ucciso! Pensavo fosse più difficile da uccidere sinceramente! L'ho ucciso! Questa stanza dove cavolo sono? Io sono salito teoricamente! Quindi devo salire ancora di più! Ma quanto cavolo devo salire? Ok, almeno qua ci sono le scale! Quindi se lo salgo qua teoricamente arriverò in cima alla torre! Giusto? Dovrei arrivare in cima alla torre! Qua c'è una porta! E questa è la cima della torre dove non c'è nulla! Quindi teoricamente devo andare qua! Ce l'ho fatta! Aspetta! Quella è la cima! Questa non è la cima! Tipo dimmi che questa è la cima! Per favore! Non posso arrivare! Aspetta! Ok, forse è questa! L'ho trovato! Sei tuo amico! Sei tu l'antico custode! Dimmi che sono ti prego! Questo è il nucleo della magia! Ok! Sì, ma hai già detto che questo è il nucleo della magia! Ma sei tu o no l'antico custode? Non ripete sempre le stesse cose! Lui si trova al piano di sopra! Lui si troverà al piano di sopra! Ti prego no! E come ci salgo? Questo è il nucleo della magia! Va bene! Non me ne frega nulla! Come ci arrivo al piano di sopra io? Come ci arrivo? Ok! Allora facciamo così! Oh, per generale! Facciamo parkour intorno alla torre! Facciamo così! Così nessuno! Allora passiamo di qui! Ok, perfetto! Quindi! No! Devo andare lì! L'unico passaggio per arrivarci! Facciamo un piccolo calcolo! Devo salire lì! E per arrivare lì! Devo... Ma quella è la prima torre che ho esplorato io! Aspetta! Non è che devo passare da lì sotto! Allora, se io cado qua, muoio! Cento per cento! Forse potrei salvarmi in qualche modo da questa caduta! Io ci provo! Forza! Ok! Ho due cuori! Io sto citando tutto! Non so neanche da dove cavo devo passare! E teoricamente questa è la zona? Penso di sì! Ma come ci entro in questa zona? Ho fatto una stupidata ragazzi! Ho fatto una stupidata! Allora, teoricamente per arrivare qui... Devo passare da qui! E quella è la stanza della prima persona che ho incontrato! Ma io devo rifare tutto il giro! Tutto io lo devo rifare io! Aspetta no! Ok! Non devo... Forse non devo... Non devo rifare tutto il giro! E scendo di qua... E non prendo troppo danno forse... E qua è parkour! E qua è un parkour incredibile! Devo stare attento che se cado qua è la mia fine! Forza! Ma qua sono bravo ragazzi! Sono bravissimo mamma mia! Quindi... Dicevamo... Io devo entrare qua! Perché c'è un tizio qua sopra! E... L'entrata dov'è? Ma ci sono già stato io qua sopra! Non c'è nessuna entrata! No aspetta è questa! Ma potevi dirmelo? Passa nella porta dietro di te! No! Ma non è possibile! No io non ci credo! Andiamo! Ok questa zona... Ok mi porta sopra! E qua è dove arrivo? Qua ci sono i guardiani! Devi sparire! Ah ho capito! Ma la prima cosa che ho spiato mi era chiuso! Quindi la prima via che ho fatto era giusta ma era sbagliata allo stesso tempo! Ma non ci credo! Tutto il tempo sprecato! Tutto questo tempo sprecato a far nulla saliamo in cima! Siamo arrivati in cima? Non ancora penso che questa è tipo una sala di banchetti! La tavola rotonda è... Saliamo! Forza! In cima! In cima al mondo! In cima alla torre! Sono arrivato? Penso di sì! Ok! Questa è l'ultima porta! Al 100% questa è l'ultima stanza! E qua ci sarà l'antico custodio! Forza ragazzi! Andiamo! Apriamo la porta! 1 2 3 Ma che cavolo! E qua ci sarà l'antico custodio! E qua ci sarà l'antico custodio! E qua ci sarà l'antico custodio! E qua ci sarà l'antico custodio!